Eccoci qua, nella nera di rinforo. Spettacolare! Adesso vado giù dalla nera di rinforzo. No, 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 no. No, no, no. Non ci sono le due giù da giù. Adesso vado a dare il massimo. E' un po' là. Vediamo ragazzi, la discesa è liberata. Stiamo superando Renato. E' un po' là. Vediamo ragazzi, la discesa è liberata. Stiamo superando Renato. Siamo pronti per andare sulla montella. Potete andare giù dalla mano? No, no, vengo giù anch'io. Mi racconti tutto. Dunque, vi spiego. Ho tre costole inclinate. Tre costole inclinate. E malgrado tutto, è un ragazzo che non c'era. Quando invece di puntare avanti, si punta laterale, in corrispondenza dello sci, e si cerca di andare a destra, in Belin. No. Conferma lei, scusi. Sì sì, io c'ero poi là.